9 anni e 6 mesi di carcere, la richiesta dell'accusa per i 4 notab al processo per l'assalto al cantiere di Chiomonte, atto paramilitare minuziosamente curato, dicono i PM. E buongiorno a voi tutti che seguite il telegiornale del Piemonte. Dunque in primo piano il processo in corso all'aula bunker delle vallette di Torino a carico di 4 attivisti notab accusati di terrorismo. Oggi è il giorno della requisitoria dei PM, la pubblica accusa ha chiesto 9 anni e 6 mesi di carcere per gli imputati. Rievocati i fatti del 14 maggio 2013 al cantiere TAV di Chiomonte per i PM si è trattato di violenza armata e organizzata in modo paramilitare per costringere lo Stato a retrocedere. È un atto di guerra, aggiungono i PM, ma sentiamo Matteo Spicuglia. La richiesta è secca, 9 anni e 6 mesi per Chiara Zenobi, Claudio Alberto, Nicolo Blasi, Mattia Zanotti. La richiesta arriva al termine di una requisitoria di quasi 5 ore, una requisitoria che ricostruisce in modo dettagliato tutti i particolari dell'assalto al cantiere di Chiomonte della notte tra il 13 e 14 maggio del 2013. Un assalto organizzato nei minimi dettagli, per i PM, Rinaudo e Padalino un attentato eseguito con tecniche paramilitari e armi micidiali. L'ipotesi che aveva portato alla formulazione dell'accusa di terrorismo per Claudio Alberto, Nicolo Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi. Il PM Padalino fa ascoltare le intercettazioni, mostra le immagini e i video dell'assalto, ricostruisce il contesto in cui è maturato la protesta Notav, certo, ma anche gli ambienti anarchici. Ma perché parlare di terrorismo? Lo spiega il PM Antonio Rinaudo, cita la diversificazione dei punti di attacco, la tecnica di guerriglia, il lancio di Molotov per distrarre l'attenzione delle forze dell'ordine, la predisposizione dei mezzi, armi da guerra, sim anonime, telefoni di servizio, collegamenti per gli spostamenti. Una ricostruzione dettagliata a cui risponderà la difesa nelle prossime udienze. Adesso stanno parlando le parti civili.